La musica è stata sempre a casa per me. Io vengo da una famiglia di persone molto semplici, questi erano i luoghi dove lavorava mio papà, che faceva il pastore, il contadino come tutti a Berchida, ovviamente il posto non era così, c'era una casa 4x4 in granito dove quelli della famiglia di mia madre abitavano spesso anche in 15, anche in 16, quindi quello che oggi è un paradiso che viene però da una grande passione, da una sofferenza che era anche quella della campagna. In questo luogo non c'era acqua, c'era una fontana scendendo verso la vigna che per riempire una brocca da un litro e mezzo bisognava impiegare due ore, scendeva un rivolo d'acqua e poi abbiamo scoperto che sotto terra c'era di tutto, c'era l'acqua sufficiente per innaffiare un giardino, una linea eccetera. Da piccolissimo avevo la passione della musica, non so perché, ero affascinato, sentivo, sentivo la radio, stavo a guardare la televisione, le trasmissioni di allora, quelle dove c'erano le orchestre, le grandi orchestre della RAI, l'orchestra di Roma e l'orchestra di Milano, dove poi ho avuto modo di conoscere tantissimi di quei protagonisti importantissimi, che sono quelli che poi hanno fatto una parte della storia del jazz italiano negli anni 60, negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70. I miei genitori mi regalarono un'armonica bocca e io con quell'armonica bocca strimpellavo tutto il giorno. Mi ricordo perfettamente la prima volta nella musica quando, ad una festa di compleanno dei miei, loro ballavano giù nella cantina, perché noi abitavamo in cantina, perché la stanza buona non si abitava mai, si lasciava solamente quando veniva un ospite. Abitavamo in cantina e ricordo perfettamente, io avrò avuto forse cinque anni, cinque o sei anni, che i miei genitori con tutti gli amici loro, che erano pastori e contadini, ballavano mentre io suonavo l'armonica bocca e la cantina era piena di coriandoli e di stelle filanti. Questo è il primo ricordo della musica. Poi vicino a casa c'era un complesso, perché a Berchida c'erano i complessi musicali, che suonavano nei matrimoni, che alcune volte andavano a suonare anche fuori, i tè danzanti, le feste per il carnevale di Tempio Pausania, eccetera, eccetera. E c'era un suonatore che si chiamava Fabio Serra, un vecchio suonatore di Berchida, molto eccentrico, molto particolare, e io andavo a sentire le prove. Loro provavano veramente a 200 metri da casa. E a un certo punto lui mi vide sempre lì, sempre lì, a sentire queste prove e disse ma ti posso imprestare una chitarra? E mi imprestò una chitarra. E io con quella chitarra a quattro accordi riuscì a farli, quindi insomma un po' l'armonica bocca, un po' la chitarra, fino a quando poi non sono andato a prendere lezioni di musica presso la banda, perché quando la banda passava sotto casa io non stavo nella pelle, anche in pigiama uscivo per strada e mi intrufolavo in mezzo alla banda. Il maestro Tiubustiano Viga a un certo punto mi ha detto ma vieni a prendere lezioni di musica. Io a casa avevo una tromba perché mio fratello l'aveva suonata prima di me e poi l'aveva abbandonato e guardavo questo strumento e il mio sogno, l'unico sogno da bambino era toccare quello strumento. Però i miei genitori giustamente invece l'avevano messa nella parte più alta della libreria affinché io non potessi toccarla. Questa tromba era dentro una custodia di legno nera, la tromba è qua tra l'altro, con un velluto rosso e sapeva di olio dei pistoni della tromba perché i pistoni della tromba si lubrificano con un olio tipo quello delle macchine da cucire, un olio molto sottile, molto raffinato, ma siccome questa tromba era vecchia, perdeva olio, questo odore dell'olio dei pistoni mi inebriava, era un qualcosa di straordinario. Quando qualcuno oggi mi chiede cosa associ alla musica, io dico l'odore dell'olio dei pistoni della tromba che allora. E quindi sono andato a prendere lezioni di musica, il maestro Tibustiano Viga voleva darmi un clarinetto o un bassotuba, no più che un bassotuba un bombardino che è un po' più piccolo perché in quel momento evidentemente mancavano quegli strumenti, ma io gli ho detto maestro io voglio suonare la tromba, ho una tromba a casa, non posso prenderla, non posso arrivarci, ma un giorno riuscirò a farlo.